E no, devi toglierlo dopo A mio parere qua siamo già stremmanti Ah, vedi che anche da te Ah, siamo già stremmanti Giusto? Benvenuti, benvenuti Buongiorno a tutti Oggi vogliamo il picco d'ascolti Pam, pam, pam Così, finito No, ma il tuo YouTube è un po' lì Però qua invece lo vedo correre Lo vedo correre Vedi come corre? Corriamo, corriamo E vedo già dieci spettatori simultanei Sta succedendo di tutto Abbiamo un picco d'ascolti Vediamo se lo vedo anch'io qua Commentate, commentate Sì, aiuto, aiuto Aiuto Commentate, commentate Ecco, vedi che arrivano i commenti Stanno arrivando, stanno arrivando Potrebbe essere Prova così Marco Adesso dovremmo sentirsi Scusate, mea culpa Mi è scappata la mano un attimino Parla, parla Massimo dice che sempre non si sente nulla Ciao a tutti Vi ascolto mentre guido per tornare a casa Daniele ci ascolta Mentre in viaggio Grande Daniele E se ci ascolta è già qualcosa Visto che prima non si sentiva Vuol dire che si sente? Dateci un feedback Ora si sente chi si lamentava prima Massimo, si sente? Giulia Franchi dice Ciao Si sente bene Ciao Si sente bene Vedi ormai Quando Fellini Tocca un federino Tricc E subito parte Trac Eh ma in regia Con Marco Sciosio Non c'è dubbio Che tutto funzioni Ma visto che siamo su YouTube E il tempo È denaro Ah ci pagano al minuto qua Ci costa al minuto No, non è vero Non sapevo cosa dire Mi sembrava carino Colorarlo così Però no Possiamo aspettare un pochino Siamo a due minuti Siamo a due minuti e trenta Abbiamo dieci ascoltatori E allora arrivati a A me risultano Dove Perché sei un lingua Nibale ottimista Poi da Venezia Con l'acqua alta Non sei un po' Ah ma io in realtà Ho quei dieci Quindici computer Tutti accesi Va bene Sei alla NASA Sei a SpaceX Esatto Commissione di controllo Esatto Esatto Io sto Tutti i computer Controllo accesi Scrivo io Che controllo qua Commentate Fateci sentire La vostra presenza Mi sembra essere un DJ DJ Fateci sentire la vostra presenza Yoho Mani al cielo Tutti mani al cielo Mani al cielo Con questa nostra presenza Se ne sono scollegati tre Te lo dico subito Quando noi incitiviamo A seguirci Va bene Va bene Direi che Stiamo nel tranquillo Ma a questo punto Marco Io direi Che stiamo al minuto 3.30 Numero Non lo so Qua dalla cabina di regia Io Al minuto 3.30 Se voi siete d'accordo Partirei con La felice Sigla La felice sigla Aspetta un secondo Che stavo Sì Sì No Qua non ci sono commenti Su Facebook Tutto su YouTube Si tiene ad occhio YouTube È arrivato Mau Che dice Ok per la felice sigla Ce li hai gli occhiali? Beh No Cioè ce li ho Ma non Allora Partita La felice sigla Pronti E vai Via La felice sigla A me era quello Ritagnarsi di fila Eh La prossima volta Sto a film Mi sono rapato Ditto Ma è carina Poi creato una sfera Massimo dice che Continua ad avere Volume bassissimo Noi dobbiamo Sarà Perché Non dobbiamo La pure Con cui Trasmetta la live E quindi Magari Massimo Non lo so Però magari Ti consiglierei Verificare Il tuo volume Questa musica Mi fa Per la felice sigla Che ci serve A più Ma Quando sei fuco di Velo Che possiamo Parlare Ah sì Ma ecco E io te lo volevo chiedere Allora Torniamo faccioni Perfetto Siamo pronti Perché iniziamo a avere Un po' Un po' D'affanno Va bene Tu pensa che A furia di Stare fermi No Anche fare un piccolo Balletto Implica Una certa dose Di fatica È impegnativa Eh sì Che peraltro Marco Ti volevo chiedere Tu sai Di che cosa Parleremo oggi L'oggetto Della nostra Del nostro incontro Ne abbiamo parlato prima Me lo chiedi O è una domanda Rettorica È una domanda Lancio Che tu devi dire Certo Marco Non lo so In realtà Di cosa parliamo oggi Però Prima Casualmente Stavo pensando Se io volessi fare Un bel viaggio fotografico Come mi devo comportare A cosa devo pensare Come devo organizzarmi Questo pensavo Pur non sapendo Di cosa si parlerà oggi Certo Ma c'è te che Più di un viaggio Oggi parliamo Ristringiamo La cerchia Di Foto Cioè Nel senso Di uscita Si parla di un'uscita Un Come trovare Un posto Fotografico Qualche cosa Che ci ispira Prendere spunto Che tante volte Gli spunti Sono sempre cose Molto divertite Dico bene Ma commentate Perché Diteci Anche Diteci la vostra Soprattutto la vostra Perché noi siamo qui Per voi Allora Io cosa faccio A compivido lo scherzo A compivido lo scherzo Solo abbassare il tuo youtube Che io mi vedo In triplice copia E quando vedo Con la schermata giusta La regia si muove E apparirà Perfetto 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 Allora Partiamo 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 Unvorum Io ti dico Marco Che questo momento Io Ovviamente Non Non Mi sfugge Nulla Stai pure Tranquillo Da regia Non avevo Quindi Facciamo Come progettare Un'uscita fotografica Queste sono cose Tra l'altro Io e Marco Ci interfacciamo Su questi argomenti Molto Molto Spesso Spesso Volentieri Perché Spesso Volentieri Spesso Volentieri Ci confrontiamo Sempre Con Le metriche Che Vogliamo Condividere Con voi Con voi Oggi In questo periodo Invece Ci scopruta Su Skype Riguardo A queste cose Esatto 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 Allora Intanto Vi ricordiamo Il nostro sito web Abbastanza Aggiornato Con Anche Le Possibili Uscite Dopo Metà di Giugno Con Giusti Criteri Eccetera 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 E Poi E con Anche Le cose Online Le attività Online Che stiamo Continuando A Proporre Allora Ovviamente Se siete collegati Qua Vi piace Fotografare E trovare Stivoli Spunti Per andare A fare Nuove Vecchie Fotografie È sempre Oggetto Di Pensiero Ora Per quanto Riguarda Gestire Vecchi Spot Quindi Vecchie Inquadrature Abbastanza Semplice Ci siamo Già Stati Quindi Tutto Sommato Sappiamo Cosa Fare Delle Volte Sempre Trovare Lo Spunto Nuovo E vediamo Di solito Come può essere Un'idea Per Confrontarsi Per Organizzarsi Prima Di Un'uscita Fotografica Allora Qui abbiamo Portato Alcune Fotografie Giusto Per Iniziare Con Delle Immagini Questo È Il Castello Del Boccale Costa Calafuria Nel Litorare Livornese Che volendo Si può Dire Ma Dov'è Il Castello Del Boccale Come Faccio Ad Arrivare In Quel Punto Possiamo Vedere Alcuni Metodi Che Utilizziamo Per Scoprire Dove Andare A Fare La O Delle Volte Non È Bello Chiedere Vogliamo Arrangiarci Per Conto Nostro Idem Questa È Una Foto Al Lago Massacciucoli Che Peraltro Non Sono Per Nulla Lontani Questa Regola Vale Sia In Italia Non Dico Soprattutto All'estero Perché Soprattutto All'estero È Un Concetto Dove Ci Si Sposta Si Fanno Kilometri Magari Il Tempo È Anche Più Risicato E Quindi Bisogna Stare Un Po' Più Concentrati Nella Scelta Della Location Nel Ritrovare Il Luogo Adeguato Per Andare A fare La Giusta Fotografia Luogo E Anche Orario Capire Tante Cose Dal Banale Che Non È Banale Parcheggio Al Quanto Tempo Ci Metto Per Arrivare E Così Via Molto Bene Io tengo d'occhio i commenti ma finora non c'è Non c'è attività Non c'è attività Non c'è nessuno Ok Quindi sempre qui Varie tipi di immagini come ribadisco vale per l'Italia O per Anche per l'estero Quindi capire se ho visto delle foto Da catalogo Da internet So che mi recherò in un luogo Spulcio un attimino Google Mi escono delle inquadrature E magari so che sono nella zona che più o meno Dove passerò nella mia vacanza Nel mio turno Nel mio viaggio E come andare a scoprirlo E intanto tu Vieni sempre accompagnato Dalla natura Da questi suoni di fondo Che hai te Che Fiu Fiu Tipo San Francesco Che Sì prima c'era anche il temporale Sì La trasmissione Tu sai Da dove sto È una location super segreta Che non possiamo condividere Con tutti Ma è all'aperto Effettivamente Ma è all'aperto Sì Quindi si sente Cip e ciop Cip 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 Allora partiamo Con dopo le immagini A come Posso Ispirarmi Dico bene ragazzi L'ispirazione Diciamo sempre In tutti i nostri corsi Che Replicare immagini Già viste È sicuramente Una cosa che piace Piace a tutti Piace a me Piace a Marco È assolutamente normale Replicare Anche la stessa inquadratura Suggeriamo Di replicarla In maniera soggettiva Sapendo benissimo Che una replica È La divina commedia Se scriviamo La divina commedia Non siamo l'antica Perché l'ha già scritta prima L'ha già scritta prima Quindi cerchiamo Sempre 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 Di dare Sempre del nostro Quindi anche nello stesso luogo Più o meno Alla stessa inquadratura Cerchiamo di dare Qualche cosa Che ci riconosca Noi ci riconosciamo In Noi Cioè Quella immagine è nostra Ok Copiare Il meno possibile Quindi cercare Inquadrature Che ci piacciono È importante Adesso vediamo come E quindi cosa fare Che il fatto che io Vado a cercare Ispirazione Implica che Quando raggiungerò Il posto Prescelto Avrò un'idea Di cosa andrò a fare Qui ci sono Aiuti preziosi Che non so A questo punto Se far vedere all'inizio O per spezzare un po' Le slide Di far vedere Magari Alla fine Però Un aiuto Assolutamente preziosi Aiuti preziosi Possono essere 500px Google Instagram Flickr Reusa.it Nella diretta Commento con un po' Di Che sono Ok Che sono siti Alcuni Dedicati alla fotografia Google No Dove C'è la possibilità Di interfacciarsi Sapendo di Aver visto un posto Ci incuriosisce Il luogo Per andare a scoprire Come Eventualmente Di che luogo Si tratta Allora Possiamo andare A questo punto A vedere Anche Non so 500px Che avevo prima Aperto E dimmi una location Che ti piacerebbe andare A vedere O se avete voi Qualche cosa Dai commenti Vogliamo i commenti Con una location Montana Montana O vale tutto Anche Vale tutto Il primo commento Verrà accontentato Venghino Signori Venghino Chi prende il codino Un giro Grattis Alla giostra Non si diceva così Una volta Io ogni tanto Non ce l'avevo fatta A prenderla Dolomiti Dolomiti Mattia Sono un po' Generico Generico Cerchiamo di essere Un po' Più preciso Non il lago di Braes Per favore Che abbiamo Già In più salse Torre dei Violet Attenzione Violet Violet Attenzione Torre dei Violet Attenzione Esce subito qualcosa Che sinceramente Io non conosco Siamo in Dolomiti Siamo in Dolomiti Esattamente E abbiamo E abbiamo Ci facciamo già un'idea Su questo caso È 500px Presentiamo 500px 500px È un Diciamo che è una raccolta Una galleria Dove tu Carichi Crea la tua galleria Di immagini Che puoi caricare E c'è una sorta di Piccola Volendo anche discussione Tra gli iscritti E lì puoi trovare Chiaramente essendo un sito Dedicato alla fotografia Si trova In genere Una fotografia Abbastanza ricercata Cosa che magari Su Google Su Google vale un po' tutto Perché su Google Rischi di trovare Immagini Di vario genere Puoi trovare Delle fotografie Che è estremamente interessante Interessanti Ma altre che possono essere Un filo Meno Accattivanti Qui invece Vedo che ci sono Comunque Anche su 500px C'è censura E selezione Però essendo un sito Per fotografi È più ragionevole Pensare Che chi propone Le sue foto In qualche modo Le proponga In maniera un po' più curata E filtrata Giusto? Esatto 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 Adesso lo scriviamo Ben meglio Ok Vediamo di utilizzare Anche Flickr Esatto Scusate Anche Flickr Vediamo di dargli Magari Un po' più di Anche su Flickr Molto molto materiale Anche su Flickr Molto materiale Vediamo di ridare Le stesse informazioni Con la correzione Del nome A 500px Che secondo me In questo momento Troverà molte più cose Difatti Scrivendolo giusto Da molte più Condizioni E vedo chiaramente Qua ripetuta Un'inquadratura Che mi piace O che può piacere Dove c'è una sorta Di Maite Se cantini Scrivono Se mi fido Però non so Lo scrive Daniele Non so se si riferisce A questo Opposto O era la sua Controproposta Diamo un'occhiata Ah Baita Segretini Sono Sulle Pali di San Martino No Non è la stessa Perché ci sono stato Ma non era così Brulla Diciamo così Scusate Per il fraintendimento Ok E qui C'è da capire Un pochino Ad esempio Io ho visto Un rifugio Lì A questo punto Potrei scrivere Su Il Sul rifugio E vedere che Rifugio So Adesso ho scoperto Che è rifugio Re Alberto Ma cosa ha fatto Re Alberto Nella solita Ok Questa domanda Non è riflessata Quella non la trovi Su 500p Probabilmente Ho capito Magari la trovo su Su Wikipedia Su Google Potrei trovarlo Esatto Su Wikipedia Però tornare al rifugio Dire Alberto Rifugio Re Alberto Nell'inquadratura Sicuramente è suggestiva Quindi abbiamo Il lago E abbiamo Questa bellissima Colonna E Il rifugio Che sicuramente Sia Che può creare Un'inquadratura Sicuramente Molto Molto interessante Quindi diciamo Che Se ho intenzione Di fare Questo tipo Di Prepararmi In questo caso Allo scatto Poi vedremo Come ci si prepara Per altri modi Però partendo da qui Possiamo già Avere un'idea Di Abbiamo trovato Linea di massima Su vostra richiesta Un posto E Studiando Un po' Il luogo Devo dire Che Sicuramente Un'immagine E parlo per Marco Che mi piacerebbe Potenzialmente Andare a realizzare In questo contesto E sicuramente Tenendo nell'inquadratura Il rifugio Perché Lago Che sicuramente Fa un riflesso Rifugio E torri dietro Sono sinonimo Di foto Di effetto Scorro 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 Magari posso anche fare Mettere cose Violette Fotografie Notturna Cioè Per vedere Che fate Non c'è Prova Knight Ecco esatto Buttati sul Knight Oh Vedi che qualcosa C'è Knight Allora C'erano Stare Magari Qua possiamo Fare Le sfide Di questo Per io Rifugio Rifugio Re Alberto Così A prescindere Perché Mi bastano Le stelle Dovrei capire Qua poi Dove è il nord Però sostanzialmente Con delle app Posso andarlo A ricreare Però A ricercare Però potrebbe essere utile Già Avere un'idea Se ho Che cosa Uno star trail Ho già Un'indicazione Di qualcuno Che eventualmente Può averle già fatte E mi do Chiaramente Un'idea Del possibile risultato Però al sicuro Ho un'inquadratura Esternamente Interessante Ora Mi sposterei Dalle torri Le abbandoniamo Un attimo E torniamo Nella nostra slide Quindi In buona sostanza Io sto guardando I dati Auditel Abbiamo avuto Il picco Per ora Quindi bisogna Andare Bisogna proporre Qualcosa Ancora più Carismatico Che crei Un picco Ulteriore Vedete Ma vedete L'idea Del Chiaramente Stiamo guardando La foto Di questo fotografo Enrico Grotto Che ha sicuramente Interpretato Molto bene La scena Per cui Alla ricerca Devo dire Che Come vi dicevo Riflesso Lago Riflesso Torri E rifugio Sicuramente È un sinonimo Di potenziale Perché abbiamo Il soggetto Abbiamo Il lago Con riflessi Vi sono già Ripetuto Però Abbiamo già Le idee Di cosa Andare Bene A fotografare Abbiamo visto Che c'è Del potenziale Mi è piaciuta Quindi Abbiamo scelto Una cosa Che ci è piaciuta Peraltro Conoscevo Anche poco Quindi grazie Anche Di avercela Fatta Allora Cosa succede A questo punto Abbiamo scelto Una location Adesso Possiamo Andare A capire Lo spot Giusto E qui Ci siamo Un po' aiutati Giusto L'abbiamo È una cosa Che abbiamo Già un po' Fatto Possiamo Chiaramente Approfondire Le cose Che stiamo Vedendo E stiamo Facendo Ma Che Averevano Tra un pezzettino Poi sempre Usafoto È una cosa Che vi voglio Far vedere Perché ritengo Sia un sito Con una parte È molto bello Usa Veramente Ha fatto un grande Lavoro Su quel portale In più C'è una cosa Che a me Piace molto Che è la scelta Dello spot Dell'inquadratura Devo dire Che ci sono Veramente Centinaia 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 Di possibili Scelte Fotografiche Sia per Trovare Lo spot Che ci piace O Ed eventualmente Per farci anche Scoprire posti Che Magari Non conoscevamo Adesso Andiamo avanti Con Una cosa Molto importante Info Culturali Del posto Possono servire La risposta È sempre sì Qui dipende Un po' Dalla vostra voglia Di approfondire Un po' L'argomento Dell'uscita In modo tale Di avere più informazioni Se ci sono chiesi Particolari L'epoca Lo stile Lo stile Artistico Se c'è un museo Se c'è Una Che non so Un tour guidato Che si può fare Allora è differente Magari di quando Magari noi vogliamo Fare le fotografie Però Sicuramente Amplifica Quello che è la Precisione del posto E anche L'emozione del posto Scoprire cosa c'è vicino Vedremo adesso Che è sicuramente Molto interessante Qui La location Purtroppo Nel senso L'ho scelta io Ma rimaniamo In Delumiti E sul ragionamento Su il cosa c'è vicino Tutta la musichetta Dove siamo qua? Dove siamo qua Marco? C'è scritto Siamo al passo del falsargo Giusto? Falsargo Passo falsargo Esatto Allora Come funziona Ad esempio Il cosa c'è vicino E scoprire Ed eventualmente Che cosa ci può essere Vicino A un posto Che ci ha Incuriosito Ok In questo posto Che sono andato più volte Abbiamo Sicuramente Un punto Un rifugio Uno dei posti più belli Delle Donomite Nella parte veneta È il rifugio La Gazzuoi Ok È strepittoso Siamo a 2900 Blah 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 Metric 2700 2900 Giù di lì E c'è una vista Che è Una delle più belle Delle Donomite Sicuramente Hai un Un ampio Veramente Un ampissima Visuale Meravigliosa Ma c'è da sapere Che è una posizione Strategica Dove passa Quel giorno in più Attaccato Di Soggiorno Eventualmente Per chi Si sposta da un po' più lontano Per poter apprezzare Altri luoghi Strepitosi Delle Donomite Sapendo che A mezz'ora Se non di meno C'è la funivia Parte la funivia C'è il parcheggio Delle Cinque Torri Altro luogo Strepitoso A trenta minuti Sempre dal Lagazzuoi E una Quindi una cinquantina Le cinque torri Dipende da cosa fai Prima O bi 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 Comunque c'è Passo Giau A trenta minuti Sempre dal Rifugio Lagazzuoi C'è lago Bisurina E a un'ora C'è Le tre cime Il rifugio Bronzo Con la partenza Per le tre cime Di Navaredo E quindi Devo dire Che sono Sapendo cosa c'è vicino Se uno si può Trascorrere veramente Un weekend Fotografico Con Con i botti Diciamo Con i fuochi D'artificio Perché si coglie Tra i luoghi Più e dell'Omiti In un weekend Senza doverci tornare N volte Io vi faccio vedere Una vacanza Che ho fatto Lo scorso anno Peraltro proprio lì E sono andato Con il mio pupetto Dove Questo è il rifugio Lagazzuoi Quasi nella stessa giornata Ovviamente Era tipo Era Tarda mattinata Quindi le fotografie Le ho spesso Trasformate in bianco e nero Perché la luce Nonostante le nuvole Ma era da Giornata Grigiosa Insomma Grigiosa Ma Senza che la luce Sia stata particolarmente Favorevole A regalarci Le nuvole Sono strepitose Però Quel contesto Del Luminosità Non ci favoriva Ora Cosa succede? Dopodiché Questa foto Questa è la funivia Che porta su Al rifugio Lagazzuoi E dove ho fatto Questa foto Vero che mi stai chiedendo Dove ho fatto Questa foto Marco? Non riuscivo a non chiedertelo Esatto Questa foto L'ho fatta Da Il parcheggio Delle cinque torri Dove parte la funivia Quindi dal parcheggio Dove parte le cinque torri Per vedere le cinque torri Si fa Benissimo Si riesce a fotografare Tranquillamente La funivia Non tanto per fotografare La funivia Anche se a questa foto Io francamente Sono affezionato Mi piace Ma tanto per dire Quanto sono vicine Per cui Anzi Non ho preso la funivia Sono andato su a piedi E con il mio pupetto Ci siamo giocati Un pochino A fare un po' di foto Nel vedere Passaggiare Con le Si qui ha aiutato le nuvole Perché in realtà Qui peraltro Si interrompeva un temporale Ne partiva un altro Insomma Spesso siamo stati sotto l'acqua Poi finito le cinque torri Perché comunque Vuoi l'acqua Vuoi che fai il giro Abbiamo mangiato lì Torna indietro Andiamo a passo Giao Siamo a mezz'ora Che non ci va a passo Giao Scendiamo dalla macchina Dopo il temporale Arcovaleno E quindi Ci siamo fatti L'arcovaleno Poi ha detto Beh tanto che si scherisce Facciamo diretto su a passo Giao Passo Giao E è un strepitoso E sei tutto lì vicino E' chiaro Che io In questo contesto Era una vacanza Foto famiglia Quindi Non era proprio dedicata A notturne Tramonti Albe Ne ho fatte veramente poche Ma la cosa Che può essere interessante È che Se La vacanza È prettamente fotografica C'è la possibilità Di in poco Minuti Di essere In posti Estremamente Suggestivi Perché? Perché sapevo Cosa c'era vicino Questo è sempre Passo Giao Questo è sempre Passo Giao Quindi anche di giorno Peraltro alle tre Di pomeriggio Quattro Si possono anche fare Secondo me Delle foto Delle foto Curiose Tornando verso Le tre cime Di Lavaredo Questo è il tramonto Quindi abbiamo fatto Le nostre Foto Alle Cinque torri Poi siamo andati a Passo Giao Poi siamo andati a Lagazzuoi Al tramonto Qui Il lago Molto vicino Se poi Un altro giorno Perché tutto In uno stesso giorno Probabilmente Devi essere molto Fisicato Si possono Anche andare a fare Le foto Alle tre cime Di Lavaredo Qui c'è un piccolo Passo a piedi C'è un passo Passeggiata Da fare La camminatina Esatto Però Che ti dà Tanto soddisfazione Mentre invece Qua praticamente Non cammini mai Cioè Sei in macchina Scendi E trovi E fai E fai Questo è veramente Barattolo Beh no Alle cinque torri Può andare a sua piedi Però Ma anche Tutti Può andare a sua piedi Però Con l'attrezzatura Fotografica Diventa Sicuramente Molto più complicato Muoversi Allora Fino a qui Quindi Il sapere Di dove Cosa c'è vicino È importante Perché delle volte Con poco Riusciamo a vedere Anche più posti Per questo Bisogna sapere Che Come calcolare Le tempistiche Per raggiungere Il luogo Da casa Oppure dall'hotel Orari di alba E tramonto Fondamentale Dici parto da casa Oggi vado a fare Il tramonto Che ne so Quel posto lì Quanto ci vuole? Tre ore e mezza Il tramonto è tra un'ora È impossibile Quindi capire un attimino Gli spostamenti Quando ci vogliono Sia per una uscita singola Specie se devo fare un viaggio Allora quando diventa il viaggio Quando devo progettare un viaggio fotografico Questa cosa diventa ancora più importante Perché devo sapere I luoghi di spostamento Check in Check out E tutto quello Che è importante da sapere Rispetto all'hotel Quino a che ora servono Da mangiare Con gli spostamenti Oltre che alba e tramonto Ma come potersi orientare Per gestire meglio Gli spostamenti Sopra luogo prima di arrivare Ecco una cosa che consigliamo Assolutamente È quella di Soprattutto se facciamo fotografie notturne È di non arrivare Di sera o di notte In un luogo che non si è mai visto Perché si possono Non è Chiaramente Soprattutto se in montagna C'è anche una piccola dose Di potenziale Bisogna stare più attenti Quando ci si muove in montagna Però Anche il fatto di trovare Gli spot E le inquadrature Più significative Più interessanti Magari c'è Una serie di fiori Che vogliamo mettere In primo piano Una roccia Un particolare Un'insenatura Qualche cosa Che riusciamo a vedere meglio Quando chiaramente c'è giorno Perché voi direte Beh c'è la frontale Ma la frontale Offusca un po' i colori Parlo per me Però molto spesso È forte È completamente bianca E E comunque Non mi dà proprio l'idea È chiaro che è un aiuto Rispetto a non avere niente Però Non riesco Ad apprezzare Una possibile inquadratura Se non la vedo meglio Con i miei occhi Insomma Quindi È meglio farsi un giro Quando c'è Quando c'è luce Sciocchezza Ma non lo è Controllare le attrezzature Pulirle Le batterie Che siano cariche Abbigliamento Sui cambi di altitudine Orari e stagione Ora Se questo Ad esempio Questo periodo È facile Che Ci siano Una temperatura Molto A o alta O abbastanza alta Di giorno Che ci permette Di stare In maniche corte Però Se siamo sul mare Se siamo In un'altitudine Già superiore 200-600 metri Ma anche prima Delle volte C'è il rischio Che al calare del sole Cambi notevolmente La temperatura E se voglio Risco Fare foto notturne Un tramonto C'è il rischio Di un'oretta È facile Beccarlo Quindi un poncettino Magari che copre Anche lo zaino Sia noi Che lo zaino Fotografico Coprirlo Potrebbe essere D'aiuto Per evitare Di sorprese Insomma Un po' Spiacevoli Diciamolo Marco Limpi Ci sono addormentati tutti Ci stanno seguendo Non abbiamo commenti In realtà Vi invitiamo a fare domande Abbiamo pochi commenti Però c'è tanta gente Che ci segue Ok Allora Poi portiamo A delle app Che possiamo ritenere Utili Per fare foto Una Una app Che ci sono delle app Che fanno tutto Ok Io Vi dico come faccio E ovviamente Valgo per uno Per me Io ho Sia l'app Che mi Dà un'idea Di che ora è Alba Tramonto Ora blu Golden hour E dice Come stanno le cose E soprattutto Prendete delle app E se mettete Come ricerca Che abbiate IOS O che abbiate Android Di solito Sono Comunque Queste che gestiscono Alba Tramonto Ora blu Sono gratuite Perché Scaricate Vedete se l'interfaccia Grafica Vi possa interessare La cosa che deve Segnalare Appunto È quando c'è L'ora blu Quindi da A Quando c'è Che ora c'è L'alba Che ora è L'ora d'oro È uguale per la sera Questa qui Può essere interessante E soprattutto Una cosa Che mi può Dia la possibilità Come vedete qua in alto Di cambiare il luogo E il calendario Perché è luogo il calendario Perché in funzione Della latitudine E della stagione Ovviamente Gli orari Di alba tramonto Cambiano Per cui Se so che Dovrò progettare Un'uscita A 2000 metri E magari Fra dieci giorni È importante sapere Tra dieci giorni A 2000 metri In quel posto A che ora è Alba tramonto Anche giustamente Per arrivare So che ci vuole Quattro ore di macchina So che il tramonto A quell'orario So a che ora Partire Banalmente Poi Un'altra app Che trovo interessante È quel calendario Dalle fasi lunari Sapere Quando C'è Se voglio La luna piena Se la voglio Tre quarti Se la voglio Se non la voglio Quindi sapere Quando C'è O non c'è La luna Perché è importante Un calendario Fatto in questo modo E perché mi piace Interrogarla Perché è facile Io so che vado Su fasi lunari E parlo solo Della luna Non devo pigiare Altre cose So di questo Ad esempio Questo qui Un'interrogazione Che gli ho dato Qualche settimana fa Qualche mese fa Eh Qualche mese fa Io so che la luna Sorge Alle 4.38 E tramonta Alle 14.30 Cos'è che Mi interessa sapere Di questo contesto Mi interessa Che se io Quel 17 aprile Comunque Con il 27% Di luna Avessi voluto Fare la via latta Avrei potuto Tranquillamente Perché Fino alle 4.38 Magari un po' prima Perché comunque La luna tende Comunque a salire E illuminare Qualche cosa Che non è una cosa brutta Il fatto che la luna Delle volte Si presenti In alcune fotografie Può essere curioso Perché ci illumina Se siamo in montagna Magari Senza fare Doppie esposizioni Triple Montaggi Assemblaggi Come dire Fare Il brico Il brico Della fotografia Smonto Attacco Faccio Può essere D'aiuto Perché magari Con una foto È già illuminata La scena Comunque Perché Comunque Tornando a via latta Che comunque La luna presente Può dar fastidio Io in questo In questo caso So che alle 4.38 Sale Prima 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 posso lavorare Abbastanza tranquillamente Quindi la mia foto Alla via latta O del mio star 3 E le vie di seguito Viceversa Se la luna Fosse stata presente In tutta la scena È facile Che uno star 3 Bene o male Riesco comunque A cacciarlo fuori Specie se la luna Non è comunque In mezzo alle scatole Perché altrimenti L'avrei intracciato Però Se mi volto All'altra parte Uno star 3 Con la luna Si fa abbastanza Abbastanza bene È chiaro Che se uno dice Vi dico che Delle volte a me Capita di sentirlo Ma per impreparazione Per voglia di fare Con esperienze Che io vi dico cose Che è capitato anche a me Di fare uccellati Di andare sul posto E di non avere Le condizioni ideali Quindi cosa succede? Che se c'è la luna piena Decide di andare A fare la violata Forse non è il momento Migliore Perché è facile Che non vada bene Chiedono il nome Dell'app Della luna Io Quella Si chiama Fasi lunare Tu sei su iPhone Ma ce l'ho Sì Penso Sì Però Anche qui È come L'app di prima Cioè tu basta Che scrivi Fasi lunare Calendario lunare Ce n'è di tutti i tipi Guarda che Guarda che ti dica Quando sale Quando scende E tu gli possa chiedere Dimmi lì In quel posto In quella stagione In quel mese In quell'anno In modo tale che ti rendi un po' conto Di come stanno le cose Ecco Poi abbiamo delle altre app Un po' più strutturate Queste sono a pagamento Adesso non mi ripordo la cifra Perché alcune Io ho preso Anni fa L'ho pagata Tutti i 12 Alcuni dicono Che per Android costa meno Per iOS costa di più Non lo so Alcune Sono interessanti Sono più strutturate TPE e Photofeel Photofeel È sicuramente L'app Per eccellenza È veramente Molto completa E faremo Probabilmente una lezione Solo per questa Questa app Tanto è da conoscere E tanto Il suo potenziale È anche un costo Quindi chiaramente Però ci dice veramente Tantissime cose Ad esempio L'app TPE Talle volte Io la interrogo Per la direzione Come vedete Di Del sole O della luna Quindi Sorge da una parte Tramonta dall'altra No scusa Tramonta da una parte Sorge dall'altra Mi dà un'idea di Dove Sarà posizionato Il sole Ad oggi I fotopills Ci sono sconti particolari Ed è sul Play Store A 10,99 euro Eh sì Ma saperla usare Magari Faremo una cosa Di questo genere Saperla usare bene Se piace il paesaggio Magari con gradi Potrebbe essere Un'app utile Sì Potrebbe essere Un'app utile Altra che Mi piace Sky Safari Che Mi dà La posizione Delle stelle E mi dice Anche Dove saranno In un particolare Orario O anche qui Di giorno Quindi se io La uso Spesso Quasi praticamente Solo Per sapere Dove è la via Lattea Ma dove sarà La via Lattea Perché come ho detto Se vado in un posto Che ne so Alle 3 di pomeriggio Alle 5 Io interrogo L'app Gli dico In questa posizione O dove sarà La via Lattea Quindi intanto so Dove sarà E in che posizione sarà E trovo molto interessante Mi sembra che questo costi Molto poco Sì E devo dire che È un'app Che dà soddisfazione Allora È gratuito Nella versione Basica Tu Eh sì Già base Doveva essere Infatti Non mi tornava Che si pagasse Eh sì Vabbè Allora l'ho pagata Io con Un ebete Mattia Apprenza l'idea Del tutorialone Su PhotoPills O comunque Della piccola lezione Perché dice Che è un po' Tosto E Non ci si capisce Più o meno Nulla È tosta È veramente tosta È molto completa Diciamo che quando puoi lasciare usare Tutte queste che stiamo vedendo adesso O alcune di queste Le viste fino adesso Quindi la luna Gli orari Puoi farne benissimo A me non è una sola Che fa tutto Io Tendo a Comunque interrogare Quello che fa quella cosa Perché per me è veloce A questo proposito Però Pisa Premattia Fa la domanda Ma basta PhotoPills Oppure bisogna avere anche SkySafari Cioè non ce n'è una Che fa tutto assieme Bisogna prenderne tante? Eh Allora Io mi trovo Mi trovo Allora Allora se questa è gratuita Ovviamente ti direi di scaricarla Non ha controindicazione Ad esempio Io trovo È molto comodo Interrogare L'app Quando mi serve Cioè quella che fa Quella cosa Cioè PhotoPill può essermi d'aiuto Anche perché mi calcola I tempi Di come dovrei usare In funzione della macchina Del numero dei pixel Della focale Del sensore Del tempo esatto Del più consigliato Per fare la via latta Se devo fare uno start rate Con un depitato tipo tracciato Mi indica Il tempo sul quale Dovrei stare lì A fare le foto Mi dice più o meno Mi calcola anche una distanza Per far tendere A un concetto di iperfocale Con Con l'intelligenza artificiale Con la realtà aumentata Scusate con la realtà aumentata Quindi Diciamo che Non la interrogo Per dirmi Dov'è la via latta Lo uso Che sa fare Ma non che non lo faccia Perché saperla Usarla Interamente Va benissimo Da lei Da sola Però Diciamo che Trovo più comodo Se io clicco A che ora è Come si chiama Alba e tramonto Questa lo fa E mi esce solo questa Non devo andare a cercare niente Se mi dice Dove è la luna Mi fa questo E questo non mi dice niente Tanto che queste qui Sono tutte gratuite Quindi devo dire Che sono app Che io trovo E consiglierei comunque Di avere E come il consiglio Di conoscere Ma faremo una roba Ad hoc Photofilm Ok Un'altra però Costa un patrimonio E mezzo Vedete voi Se trovate un'altra Più affidabile Picfinder Perché Eh Des euro L'ho pagata 4,69 Sull'android Non so Sull'ipone Quanto possa costare Ecco Solo io Vabbè Comunque Sostanzialmente Cosa fa Picfinder Scusate Se noi lo posizioniamo La nostra Cellulare In direzione Con la fotocamera Attiva O meglio Con l'app Attivata E se vogliamo Possiamo attivare Anche La fotocamerina Che ci fa vedere In tempo real Diciamo Le montagne E Quali montagne sono E la loro La loro altitudine E devo dire Che è molto divertente Poi ti può fare Anche Scattare Un Come si chiama Una fotografia Un'istantanea Di cosa stai guardando E è un piacere Anche tante volte Dire Non era bella Guarda che Cazzo di montagne Ha fotografato Magari Se riusciamo A recuperare Certe informazioni Riusciamo Anche la nostra Fotografia A essere più In questo caso Geografica Banalmente Cosa che Altre app Queste sono Gratuite Che possono essere Interessanti È Il tipo Di fiore Pianta Ci piace Magari Abbiamo fotografato Una serie Di fiori Delle Piante Che ne so Qualche cosa Magari in primo piano Possiamo indicare Anche il nome Della pianta Non è detto Che ovviamente Pochi di noi Alcuni Saranno botanici Altri no O altri appassionati Però sostanzialmente Se vuoi affidarti O comunque Vuoi essere preciso In un'escrizione Alla fotografia Si può caricare Io uso Plant.net Dove Gli puoi dare La foglia Gli puoi fotografare La foglia O puoi fotografare Direttamente Dalla app Oppure dalla galleria Quindi fai la foto Col telefono Poi la carichi Sulla app E ti dice In modo Cerchiamo di non dargli Magari La piantina Mentre sta Nascendo Cioè quindi Che ne so La fogliolina Giovane ancora Perché lì Ho notato Che fa fatica In altri casi Devo essere sincero Che poche volte Ho sbagliato È abbastanza precisa E sia per piante Che per animali Insetti Possiamo avere anche I naturalist Cioè facciamo la foto Alla farfallina Vogliamo sapere Che farfallina è Diamo impasto Anche qui O Gli facciamo la foto Col telefono Poi la carichiamo Direttamente La foto dell'app E lei Pino o male In maniera abbastanza precisa Ci dice che Insetto è Poi magari La verifichiamo Cioè ti dice Che è la farfallus Marittimus La mettiamo su google E vediamo se è uguale Se hai fatto la foto Alla farfalla blu E se poi è arancione Su google Magari Non ha funzionato bene Quindi cerchiamo Di Un minimo di verifica Del caso Se volete Se no non c'è problema Però in genere Sono abbastanza precisi Ora se invece Transitiamo su pc E non quindi sulle app Un metodo Per capire La direzione Del sole Blavalo radio Stagione Eccetera eccetera C'è suncalc.net Qui possiamo anche Approfondire la ricerca Indicando luogo Luogo preciso E vi di seguito Ci dà una mappa Globale Di dove Tramonta Sorge Eccetera eccetera Stessa cosa Mooncalc Ok Questo è chiaro Per la luna Ci dice Dove sorge A che ora L'altezza Per i precisi Può essere importante Avere più informazioni Altra cosa E Un'altra cosa Che potrebbe essere utile È Light Pollution Maps Che fordista Sta mappa Sta mappa Ci dice L'inquinamento luminoso Ci piace tanto La fotografia notturna E qui ci dà I punti Meno inquinati O più inquinati Li vede luminoso Ricordando che La vera sfida È fare uno Star Trek In centro a Milano Non è farlo Nelle scherze Vale bene sempre Però Tante volte Può essere curioso Delle foto Ambientarle No E quindi Lo Star Trek Diciamo che Quando si vede Le stelle Anche un conudo Con la macchina Fotografica Di sotto Si vedono ancora di più Quindi si riesce A raggiungere Sicuramente Il risultato migliore Però con questo Ci dà Con questa app Ci dà un'idea Di dove Possono essere I punti Più favorevoli Qui la Sardegna Molto interessante La Corsica Ancora più Però non è in Italia Purtroppo Ecco E di questi tempi Voglio stare in Italia Sembrerebbe Ah beh Eh sì sì Guarda Poi l'Italia È meravigliosa Quindi Bisogna sì Direi che All'Austria Potrebbe essere Però ecco Giocatevi un po' Adesso stiamo un po' Divagando Giusto per farvi vedere Le zone più luminose Quelle un po' Meno Chiaramente poi c'è Ovviamente Con la 3 sul sito Poi c'è la leggenda Che vi fa capire bene Eventualmente Dove poter andare O anche ingrandendo Comunque gli spazi Nelle cartine Ci sono comunque Zona anche in Italia Dove c'è meno Unquinamento luminoso Anche se bene o male È un po' Tutta Purtroppo Un po' Interessata Ecco però Non ci spaventi Non ci spaventi la cosa Tanto Le foto belle Le facciamo lo stesso Perché Siamo motivati Detto questo Vi farei vedere Ok Delle operazioni Che ci siamo un po' Lasciati Alle sballe Ad esempio Non abbiamo interrogato Il signor Yuzafoto Che magari Alcuni di voi Conosceranno Io spero di sì Altrimenti Lo conosciamo oggi Allora Luoghi Luoghi Altro A me piace Perché poi Luoghi Altro Posso andare In destinazioni E qua Esiste C'è un miracolo Un miracolo Bisogna un po' Giocarci dentro Perché la ricerca Va dal campo Con la farfalla A luoghi più esotici Però sostanzialmente Intanto Scegli una nazione Pensate Gli posso chiedere Più nazione Diciamo che Yuzafoto È Un ragazzo Un ragazzo Ho conosciuto il ragazzo Adesso C'era un po' Più il ragazzo Però Ha creato Questa struttura Che c'è da anni Questo portale Che c'è da anni Dedicato ai fotografi La fotografia Con informazioni Che possono essere Molto utili Io lo utilizzo Molto anche Per la recensione Degli obiettivi Per la scelta Degli obiettivi Perché ha Un metodo Di Intanto Vabbè Non è solo lui Che va a recensione Ma ci sono anche Tanti altre persone Che fanno recensione Per esempio Un'ottica O una fotocamera E già ti dà Un'idea del Magari non guarderei Solo la prima recensione O la seconda Mi farei un po' Un'idea Perché come tutto Molto spesso Come tante cose L'attrezzatura Spesso è soggettiva Quindi io mi trovo bene Con questa C'è chi non si trova bene Dobbiamo vedere Un attimino Fare un resoconto Di più recensione Per farsi un'idea globale Di come possono essere Le cose Banalmente Alcune informazioni Su alcuni siti Sono ben esposte Le attrezzature Altre un po' Meno Ad esempio Una cosa che trovo Perché ovviamente Faccio parecchie Lunghe esposizioni È il diametro dei filtri Qui L'obiettivo è per APS-C O full frame O per entrambi Qui veramente Una lettura molto facile Gli dici l'obiettivo La prima cosa che ti dice È se per APS-C O per full frame APS-C E che filtri monta La terza Quarta voce Quindi mi fa subito capire Di che ottica Stiamo parlando Poi se voglio altre informazioni Vado a vedere Mi fa anche vedere le foto Fatte con quell'ottica Quindi è molto interessante Ma Capitolo Capitolo sito Yusa Lo chiudiamo Adesso siamo nel scegliere Una destinazione fotografica Qui la scegliamo per l'Italia E gli dico mostra Adesso credo Di solito Dovrebbe uscire La cartina dell'Italia Con un sacco di puntini rossi Quali sono tutte Le location Dove ci sono Dei fotografi Che hanno caricato Le destinazioni Quindi dove loro Hanno fatto quelle foto Eh sì Ce ne sono veramente tante Bella carica Qui ci possiamo fare un'idea O qui ragazzi C'è dal campo di grano Quindi al Al non lo so Vediamo un po' Ronzo di Cadore Qui cosa c'avevamo Niente Se zoomi ancora un po' Forse ne riescono Non andrei a perdere Da Lago Sorapis Lago Sorapis Salto su Lago Sorapis E qui cosa faccio Mi dà l'idea Di che Di la fotografia Di Che ho trovato appunto Su Lago Sorapis Che il fotografo Che qua non leggo Che Ma c'è la firma Lorenzo Ha caricato E ha fatto anche La sua La sua Come dire La sua recensione Sul posto Che tipo Che periodo Che attrezzatura Quanto ci si vuole Visita d'ingresso Eccetera 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 In più Mette Le coordinate Che sono poi Apribili In Google Maps E quindi Se voglio poi raggiungere Il posto Non devo far altro C'è Davide Che ci dice Che è già appena stato Del resto Vai a Piluccare lì Dalle parti Di casa sua È facile Che lui In questa zona Le conosca Eh sì Lago Sorapis Tanta 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 roba È molto molto bello Comunque L'abbiamo preso Una cosa Anche importante Ad esempio Qui Sull'alto sinistro Ci sono Dei luoghi Vicini Ah peraltro Guardate Stagos Sorapis Sono le tre cime C'è Lago Misurina A 9 chilometri 7 chilometri 10 chilometri E mi faccio anche Un'idea di cosa C'è vicino E questo è Molto importante Peraltro Una cosa Che oggi È sempre Molto piacevole Da sapere È gratuito Altra cosa Importante È Selezionare La tua città Io sono di Lodi E dico Fammi vedere Vicino a Lodi Cosa posso andare A fotografare E anche Questa è carinissima Raga Perché mi dice A Lodi Qui sono alcuni Fotografi Che hanno pubblicato Con dei tag Di Lodi Ma Vicino a Lodi C'è crema E mi dice A 15 chilometri Poi Se vado a 23 C'è Le sorgenti Della muzzetta Se no C'è la Osi Sant'Alessio A 24 chilometri A 25 c'è Treviglio Il parco regionale Del serio Il parco L'Ambro Milano La Rocca di Soncino Pavia Milano Quindi mi dà un'idea Che cosa Guarda che bella foto Qua parco L'Ambro È a 29 chilometri No voglio stare Più vicino E oggi Ho un Che ne so Ho una vena naturalistica Perfetto Vado a Sorgenti Della muzzetta Come se non ci fosse Un domani E Con il mio Google Che mi ci porta Lì E qui c'è proprio Il punto C'è proprio Il punto Nel campo Quindi devo dire Che Chiaro Quel punto esatto Va un po' verificato Andrei a verificare Però sostanzialmente In un campo Andrei a verificarlo Però È molto Oh che bello Il parco L'Ambro Che è a Milano In autunno Eh magari ci faccio un giro Anche adesso Che è primavera Vediamo com'è E Vado a vedere Vado a faccio un giro In parco L'Ambro Perché so che A 29 chilometri Da Lodi C'è questo parco E posso farmi una girata Che ne so Tanto so che è a Milano E quindi Posso perché no Aggiungere anche Una gitarra Da qualche altra parte Questo sito è fatto bene Perché mi dà Un'idea Oh vedo queste foto Strepitose Perché no Magari ci vado A pucicare dentro No E vado A vedermi L'Osi Sant'Alessio Che peraltro Circolizzeremo Presso delle gitte Perché è veramente Un posto Che merita Comunque avete capito Il funzionamento Posso Scegliere un posto Quindi andare a vedere Cosa c'è Oppure banalmente Posso dirgli Quindi qui Mi sto facendo ispirare E posso dirgli Vicino a casa mia Che cosa posso andare A fotografare Oggi Magari Mi verranno dei posti Che conoscerò O magari Dei posti Che saranno Nuovi Comunque è Secondo me Un punto di riferimento Importante Sia per l'ispirazione Sia per tante volte Banalmente Per Darsi un'idea Di che tipo Anche di fotografie Sono state Un po' costruite Per fare queste ricerche Non c'è bisogno Di essere Di avere la pagina Di essere Loggati Si può fare L'interrogazione Senza nessun tipo Di problema E quindi Devo dire che È molto Molto comodo Altra cosa Molto comoda Che io uso Molto spesso Troviamo una location Un po' diversa Proviamo le tre Cime della varie Mi va? Sì Grande classico Più che altro Scusatemi Prendo queste Perché so Le cose Vado a cercare E sono sicuro Di una diretta Di evitare Di perdermi Nei meandri Forse qui Quello non si apre Di Allora in buona sostanza Cosa faccio? Sono sui tre cimi Di lavaredo E faccio il mio Bell Maps Vado a prendere Il mio Bell Maps E qui mi esce Volendo le indicazioni Stradali Quindi se io sono Dove sono Clicco qua E mi dice Quanto tempo ci vuole Per arrivare Allora Quando si è in montagna Una cosa Ma in qualsiasi posto Comunque un occhio All'avvicinamento Ci vuole Cos'è il concetto Di avvicinamento Il concetto Di idea Che Quanto ci vuole Da dove Parcheggia la macchina A raggiungere il posto C'è una camminata È subito accessibile Allora Se vado In posizione Satellite L'indicazione Che poi Questa è quella Che abbiamo messo Nella copertina Di quest'oggi Vedete che L'interfaccia cambia Posso avvicinarmi Un pochino Queste sono Le tre cimi Di lavaredo In realtà Viste dal sederone Perché le tre cimi Di lavaredo Sono qua davanti Ora Vedete che c'è questo Mino blu Cioè giallo Scusate C'è questo mino giallo Sulla manina Se io lo vado a prendere Vedete E lo trascino Diventano blu Alcuni punti Se io lo vado a posizionare In uno di questi punti blu Cosa succede? Ecco che Incomincio A vedere La strada Quindi volendo Dove C'è Dove è tutta tracciata Vi faccio anche un'idea Ma com'è la passeggiata Per andare a vedere Le tre cimi di lavaredo? E intanto Da questo punto Come le vedo Le tre cimi di lavaredo? Nuvolose Ok Le vedo dietro Però posso Darmi già un'idea Del tipo di passeggiata Che sto affrontando Ora Velocizziamo La nostra passeggiata Se no ci mettiamo troppo Ok Posso a questo punto Che ne so Andare a posizionare Il mio omino Magari Visto che qui È il sedere Delle tre cime Voglio andare davanti Andiamo magari Sulla forcella Di lavaredo Dove ci sono Le macchine fotografiche È ancora più interessante Allora Già Mi faccio un'idea Di che cosa Che quando sono Al forcella di lavaredo Ho il passaggio Passo da Il vederle Dal sedere Alla forcella Delle tre cime Di lavaredo La forcella di lavaredo Incomincio a vedere La faccione Delle tre cime Come faccio A scoprire La classica Inquadratura Super famosa Allora Se le tre cime Sono qui Provo ad andare Un po' più avanti No E cercando Di vedere Un po' Cambia Ma non ce li ho Frontali Dove cappero Saranno Le mie foto Frontali Rifugio La faccio breve Posso andare A rifugio Locatelli Dove si dorme Poco ma si dorme Visto che È già Se la stagione È quella bella Questa è proprio Una foto Eh sì Se siete fuori Tutta la notte Vuol dire Che è andato Tutto bene Comunque Buona sostanza Cosa succede Posso andare A che cosa Locatelli Tra l'altro È qui Perché Mi ha detto Che era qui Lo vediamo Lo vediamo Sul fondo No No ecco Qua siamo sopra Ok Cosa succede Questa qui Questa qui È l'inquadratura Tra le tre cime Di lavaredo Giusto Il presepe Esatto C'è il bellissimo Monte Paterno Le tre cime Il rifugio Locatelli È perfetto Se io voglio andare Qui Non devo poi Fare altro Che segnare Il punto E poi Andare a Richiamarlo Per capire Di andare Nel posto Che ho Prescelto Per così Andrò a fare La foto Che ho sempre Desiderato Eventualmente Fare Questo È un modo Estremamente Efficace Per andare A trovare La giusta Location Con che modo Attraverso Appunto La ricerca Del posto L'interrogazione Magari Di siti Come possono essere Usa O altri E poi Avete un po' Voi se neanche Ne conoscete Altri Vanno bene Io ho fatto Vedere quello Perché gratis Lo uso da anni E mi trovo bene Però sostanzialmente E poi Attraverso Street View E colomino Giallo E veramente Ti fai il percorso Ti fai il percorso Riesci a capire Perfettamente Che la foto Che vuoi fare È più o meno Qui E quindi Andare a ricostruirla Come 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 vuoi Poi bene o male Potrebbe essere anche Non un punto preciso Però non sottovalutiamoci Crediamo in noi stessi Se più o meno Siamo lì Troveremo Quella giusta No 10 grammi Bene Marcolino Poi Vedo che ci sono Dei laghi Qua in fondo No Andiamo qua Qui sono Il laghetto Dei piani La piana dei laghi Che da sicuramente Non so Come cazzo Come lo fa A dire Micheli Devo aver sbagliato Qualche cosa Siamo finiti In quota Pazzesca Perché ti mette In quota Alle spalle Un po' in quota Quindi Sei un po' lontano Sì sì Allora comunque qui so Che posso fare il giro Qui qui sopra C'è il rifugio Dove C'è qui dietro Io ho il rifugio Locatelli E qua posso andare A fare le mie foto Con La piana dei laghi Dietro ci sarà Montepaterno E devo dire Che ho Veramente tante opzioni Per divertirmi Quindi Questa cosa Che vogliamo farvi vedere È avere Il pieno controllo Dell'uscita Allora Se si vuole Si può chiedere Io delle volte Chiedo Ad esempio Una delle prime cose Che faccio Magari quando vado In posti dove sono in città Chiedo Magari L'ho già preparata così Di più delle volte L'ho preparata così Ma delle volte Chiedo lo stesso Anche per fare Quattro chiacchiere E poi Tante volte La gente del posto Ti suggerisce Comunque Di andare a vedere Posticini Che possono essere Comunque interessanti Per raccattare su foto Che possono essere Di contorno Di reportage Nella nostra Nella nostra avventura In esterna Ecco Guardate Se ci sono Se c'è da mangiare In giro Anche ovviamente Quindi Spostamenti con cibo Acqua Di aver tutto Ecco Snack Medicina Nel caso Insomma C'è rotti Probe per il mal di testa Insomma Giusto per non avere Di non essere Durante l'uscita Poco Prestante Diciamo così Cosa ne dite Raga Se avete detto Se abbiamo domande È il momento giusto Per postarle Sul youtube Venghilo Signori Venghilo Come prima Abbiamo avuto Poche interazioni Social In questa diretta Direi che ci siamo Direi che ho detto Ho detto Tutto E ho fatto vedere Quello che volevo Far vedere Domande ragazzuoli Per ora Non si vede Nulla Mi sa che ne abbiamo stesi Molto bene O molto male Direi che non ci sono domande Qui il rifugio principe Tac Vediamo un pochino Andiamo Qui abbiamo Giustamente Lui le domande C'è un rifugio Ma Quindi C'è dello spazio L'altro Ah ok Ok Marcolino Tu vuoi chiedermi Qualche cosa Oggi bene No Direi di no Abbiamo Trattato Tutti gli argomenti Visti Sì Abbiamo fatto La nostra oretta Cosa dici Ma direi che Gli argomenti Li abbiamo Trattati Se Non ci sono Domande Io a questo punto Anzi Anzi Vedi Vedi Allora Ci sono domande Piuttosto Come dire Piuttosto Chiamate Tipo Quando andiamo Alle torri Del Violet Questo lo chiede Daniele Adesso ci stiamo Andando in questo momento Come vedete Ci sto posizionando Poi Marcolino Invece Dice Non aveva domande Però A pensarci bene Dice Quando lo facciamo Il corso di Photo Feels Che a quanto pare Davvero molto Interessato A questo Photo Feels Eh Photo Feels Lasciaci qualche Settimana Che lo Incastriamo In mezzo Alle altre cose E lo facciamo Di sicuro Ma presto 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 Chiede invece A livello Di attrezzature Ma quello Direi che riguarderà Un'altra Bella succosa Diretta Dove parleremo Solo di attrezzature Giusto? Esatto Peraltro Quell'ago Del Violet A occhio e croce In alcune foto Non è presente Quindi È facile Che bisogno Tocchiandare In stagioni Come Quelle di adesso Fino Probabilmente Fino a giugno Stagionale Perché dopo Dopo mi sa Che si secca Quindi fai una foto Poi devi essere bravo Con photoshop Dopo per riempire D'acqua Il lago Quando hai fatto La foto Potrebbe essere Complicato Esatto Vedete che Anche già Questa informazione È importante Perché uno dice Beh io vado Il 3 di agosto E poi il 3 di agosto Scopri che non c'è Una mazza Perché vedete Che questo è il rifugio Questo è il lago Ma il lago non c'è È proprio un po' una pozza Quindi Evidentemente Sì Tende un po' a sparire Eh quindi Eh quindi Bisogna stare un pochino attenti O magari se si vuole Che telefonare al rifugio E chiedere se in quel momento C'è il lago E quindi scegliere Se andare Scusi Ti ha fatto palo Scusi C'è il lago lì sotto Tu Siamo Lo stesso tipo di domanda Scusi Fuori lì sotto C'è il lago Mi sono in forza Ma che via Va bene Vabbè però La figura può essere questa Per evitare di farsi magari E non trovare l'acqua E non trovare l'acqua E non trovare l'acqua E non trovare l'acqua E arrivi su E poi E poi trovi Quattro sassi In croce Oddio Viene fuori Bella lo stesso La foto Però Se volevamo l'ago Che riflessi Mi sa che È per la prossima volta Ecco Vediamo un po' qua Anche perché Giusto per sapere Ma la passeggiata qui Che cosa? Adesso Giusto che siamo nel Nel discorso Programmo Massimo dice che A salire lì Non c'è sentiero Questo scrive lui Scrive Massimo Potrebbe essere La montagna La montagna Il cattaccio Re Alberto Prima Gartlhütte Cos'è Gartlhütte? Tu che sei poliglotta Eh Quando ti dice Vuol dire Quello che c'è scritto Gartlhütte 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 Gartinaccio Ferrata Ok Diciamo che A occhi croce È un po' impegnativo Quindi Però per gli avanti Delle passeggiate Di un certo tipo Questa è una bella scusa Esperti Insomma Ok Vediamo se troviamo Qualche cosa in più Qualche cosa faccia da leggere Che non ci siano Un'ora Un'ora Hai ancora stato Di presente I caratteristiche Non mi concentrava No Non sono mai stato Un'ora Cioè Se sì L'ho chiamato L'italiano Perché tu sai Che io conosco Wunderbar Barba Wunderbar Ora in poi sarà Shuzuten Shuzuten Ci vuole un'ora di camminata Non sembra neanche difficile O sì Un'ora di camminata Dipende Com'è Di livello Di livello Dipende come è il sentiero Dipende se magari hai i posti esposti Perché quando secondo me sali qua e vai fino a 2700 metri sulle Dolomiti È facile che tu abbia dei punti un po' espostini Bisognerebbe anche qui chiamare qualcuno Scusi Scusi È il postino Chiamato Quello del rifugio No Ma certo Scusi parlo con Shuzuten Cioè Dai L'ora di salita Oh cavaca Torri del bar Dipende da dove parti Oh oh No Pare Vabbè È da studiare sta cosa Valette Come vedete Non basta leggere un sito solo Bisogna comunque guardare Più 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 info Bene 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 ragazzi Direi che abbiamo Siamo giunti alla fine di questa succosa diretta Io ci auguriamo che vi sia piaciuto Non vi abbia annoiato più del dovuto Fateci domande Chiedete Cioè ma non solo in diretta Ma anche poi in futuro Cioè rispetto a queste cose Fateci tutte le domande Che ritenete opportuno farci Molto bene Marco Io direi che a questo punto Se non ci sono altre info Siamo pronti per la sigla Grazie Alla prossima Saluto della regina Prima Grazie Ciao Alla prossima Alla martedì prossima Sigla Sigla Scusi C'è un lago di sotto Sarebbe Starebbe bene Scusi Si ha fatto lago Scusi C'è sotto Un lago lì Non dire lago Se non ce l'hai di sacco Ci vorrei qualche troppattone Non dire cazzo Non dire lago Che corta me fa con mister Chiudiamo Se no Andiamo sempre Alla prossima Scusi 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 Scusi